Lucia De Robertis, consigliera regionale di Fede Renziana, e Stefania Fuscagni, collega di Forza Italia e portavoce dell'opposizione, sono partite insieme oggi alle 13.04 per Roma. Scopo del viaggio, elezione del Presidente della Repubblica. Fuscagni e De Robertis sono infatti le grandi elettrici toscane che insieme a Rossi rappresenteranno la nostra regione. Una quota rosa che ha fatto gridare a molti, non per il rosa ma per la fede politica, a un patto del Nazareno in salsa toscana. E che c'è di male? Rispondono le due signore che abbiamo sentito emozionate poco prima della partenza. Dico la verità, a volte mi giro la notte e dico ma sbaglierò a scrivere il nome, capirò il nome che mi dicono, una grande responsabilità. Tra l'altro ho visto dalla cartina che sarò vicino a Napolitano perché i grandi elettori delle regioni sono vicini ai senatori. Immagino che proprio perché se ne sta tanto parlando si troverà poi una soluzione. Ma io penso che realisticamente se non si vota sabato poi si va per le lunghe per davvero. Io ho già bello e deciso, le prime tre votazioni almeno voto Martino. Sono certissima che questi passaggi debbano essere fatti a veramente larga intesa. Io dico che Prodiu non lo voto. Per il resto si atterrà alle istruzioni di Berlusconi? Beh, certamente si va lì apposta. Immagino che però anche noi del PD dobbiamo dare una grande prova di unità. Quindi chiaramente si atterrà alle indicazioni del segretario, ma c'è un nome che lei preferirebbe vedere al Quirinale? Credo che il profilo debba essere veramente molto alto. Mi piacerebbe votare una donna, se vale la pena. La finocchiaro vale la pena? La finocchiaro vale la pena. Nella valigia ha messo vestiti sufficienti solo fino a sabato o di più? Ho coperto domenica, dico la verità, fino a domenica. Penso ci siano lavanderie, penso ci siano anche negozi dove eventualmente far rifornimento. Io sabato ho fatto un biglietto per andare dalla mia nipote, quindi spero proprio che con sabato si chiuda. È una bella esperienza politica, ecco questo lo voglio dire. Quindi anche se dura un giorno in più, via, bisogna avere pazienza. Grazie a tutti.